dai o cane metti a fuoco te lo riprendi? si si oh riesci a guardare il numero del locomotore? si se la faccio bene perfetto dopo te lo uso per te è un merci? si aha chi c'ha la 436? sai la francese ti da due strompazzate e te casca la fotocamera? eh? eh? oh non l'annunciano sti stronz dai ecco il caimano il caimano ma vaffan la 405 ebbio non è giusto madonna oh questo si chiama merci io canto l'anno 205 ma